Brutta partita al San Paolo dove il Napoli soltanto nella ripresa è riuscito a piegare la resistenza dell'Udinese che dal canto suo non ha fatto neanche un tiro in porta. Dopo aver segnato gli azzurri hanno avuto altre occasioni per legittimare il successo ma non hanno saputo sfruttarle. I pochi applausi del pubblico sono stati tutti per Kroll definitivamente riscattato dal Vancouver e come sempre impeccabile. Dopo l'azione di Damiani che abbiamo già visto eccone una di Pellegrini che al dodicesimo al termine di una lunga fuga crossa teso con un tuffo spericolato Tesser mette in angolo. Il primo intervento di Della Corna si verifica al diciannovesimo su un violento calcio piazzato di Guidetti. Il tempo offre ben poco scegliamo tra le rare annotazioni questa discesa di Vinazzani che dopo due rimpalli favorivoli manda oltre la traversa. Si riprende con l'unico tentativo di conclusione dei bianconeri ma il sinistro di Zanone finisce sull'esterno della rete di Castellini. A questo punto comincia il forcing partenopeo che si fa progressivamente più ardente anche se costellato di errori. Riesce almeno però a chiudere gli avversari nella loro metà campo a collezionare corner a ripetizione ecco di nuovo Tesser a spezzare all'ultimo momento un'incursione di Damiani e a costringere al fallo e all'affanno la difesa friulana. Appunto su una rimessa laterale al ventesimo il gol azzurro. Il passaggio finale di Marangon è perfetto. Guidetti svetta e in sacca di testa. Il Napoli potrebbe arricchire il bottino tre minuti dopo. Pellegrini si fa largo, entra in area colpendo involontariamente Bigli e tira. Di piede il portiere respinge. Lo stesso Pellegrini che ha confermato di essere in buona vena sciupa il pallone del raddoppio allorché in posizione favorevolissima manda sul fondo un centro millimetrico del solito Marangon.